Arturo, è assurdo, ci dovevamo incontrare al supermercato, vedi che è assurdo veramente 10 anni, ma tu di nuova baristaria, non stavi a Reggio Calabria, mi sono sposato a Reggio Calabria, sono stato 10 anni a Reggio Calabria però, Arturo, mia moglie lì non è che godeva di buona fama, e allora sono tornato qui a bar, anche con mia moglie ma dopo 10 anni, non hai nostalgia degli amici di Reggio Calabria? non più di tanto, anche perché mia moglie comunque ha voluto mantenere le stesse abitudini per esempio, se serve l'idraulico, il falegname, l'elettricista, lei chiamava sempre quelli di Reggio Calabria e loro vengono, devi dire come vengono ma anche le spese vogliono, non vengono qua una amica, l'amicizia vengono volentieri non vengono la stessa